Lentini, la madre va a denunciare il figlio per violenza e lui la raggiunge in caserma per acquedirla, arrestato. Graberini della stazione di Lentini hanno arrestato un 34enne del luogo gravemente indiziato di atti persecutori, maltratamenti in famiglia e minacce aggravate. Nei giorni scorsi la madre del 34enne si è recata presso gli uffici della stazione Carabinieri per denunciare un episodio dei maltratamenti. In quel momento anche l'uomo si è presentato in caserma e ha inveito nei confronti della donna minacciandola. Nella circostanza il 34enne è stato sottoposto a perquisizione personale veicolare ed è stato trovato in possesso di una grossa mazza da carpentiere che teneva in auto e di un'arma utilizzata nella pratica delle arti marziali, rinvenuta nel borsello che portava addosso. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari presso la sua abitazione come disposto dalla autorità giudiziaria.